Una coppia di sposi novelli andò ad abitare in una bella zona molto tranquilla della città. Una mattina, mentre bevevano il caffè insieme, il giovane marito si accorse, guardando attraverso la finestra aperta, che una vicina stendeva il bucato sotto stendi biancheria del terrazzo, e disse Ma guarda come sporca la biancheria di quella vicina, ma non è capace di lavare? O forse è una lavatrice vecchia che non funziona bene? Oppure dovrebbe cambiare il detersivo? Ma qualcuno dovrebbe dirgli di lavare meglio, o dovrebbe insegnargli come si lavano i panni? La giovane moglie guardò e rimase zitta. La stessa scena e lo stesso commento si ripeterono varie volte, mentre la vicina stendeva il suo bucato al sole e al vento perché si asciugasse. Dopo qualche tempo, una mattina, l'uomo si meravigliò nel vedere che la vicina stendeva la sua biancheria pulitissima, e disse alla giovane moglie Guarda, la nostra vicina ha imparato a fare il bucato! Chi le avrà detto come si fa? La giovane moglie le rispose Caro, nessuno le ha detto e le ha fatto vedere. Semplicemente questa mattina io mi sono alzata presto, come sempre, per prepararti la colazione, e ho preso i tuoi occhiali e ho pulito le lenti. Ed è proprio così anche nella vita. Tutto dipende dalla pulizia delle lenti dei tuoi occhiali attraverso cui si osservano i fatti. Prima di criticare, sarebbe meglio guardare bene se il nostro cuore e la nostra coscienza sono pulite per vedere meglio. Allora vedremo più nitidamente la pulizia del cuore del vicino. Amen Gloria a Dio Aspetta che controlli gli occhiali un attimo Oh oh, no ma parla degli occhiali del cuore qui Ok Le lenti del cuore, della coscienza Io credo che possiamo vedere il mondo Il modo che vediamo il mondo dipende dalla nostra prospettiva, dipende dal nostro punto di vista C'è qualcuno che ha detto che ogni punto di vista è un punto di cecità perché oblitera, cancella, ignora tutti gli altri punti di vista E attenzione al punto di vista Possiamo avere, dovremmo avere solo il punto di Gesù Se i nostri occhi sono affuscati con gli occhiali sporchi, occhiali dallo spirito O meglio, occhiali del mondo Però togliendoli e guardando con gli occhi puri di Gesù E allora tutto diventa puro Tito 1 15 dice tutto è puro per i puri Infatti dopo che Damadeva caddero La prima cosa che fecero fu di coprirsi perché erano vergognosi E dipende dagli occhi, dipende da come tu vedi Tu puoi guardare una bella donna, un bell'uomo senza peccato Sono sicuro che Gesù ha guardato delle donne bellissime Però non è che devi guardare con gli occhi del diavolo Oh adesso gli vado a rubare a quel marito No, dobbiamo guardare con gli occhi di Gesù Ah c'è una bella donna, una bella donna Oh, gloria a Dio Vedi un bel fiore, non è che lo strappi, questo è il mio fiore Oh, e ci danno anche la multa Prova ad andare in piazza a strappare i fiori che se no Va bene, tutto è puro per i puri Allora c'è una scrittura in Matteo 6, andiamo lì? Sì Ecco, clicca Matteo 6, attacca il 21 Matteo 6, 21 Perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore La lampada del corpo è l'occhio Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre? Matteo 6, 21 a 23 E allora dobbiamo lavorare sul nostro corpo Dobbiamo vedere cosa abbiamo dentro Abbiamo tenebre che presentiamo come luce Io sono proprio, sono in gamba, io vado in chiesa Oh, 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 io prego sempre Però quando viene il nitty gritty, quando viene al punto Ecco che la tua luce, le tue trombe sono tenebre Quando Dio è bisogno di te, tu non ci sei E allora dobbiamo assicurarci che quello che abbiamo dentro è luce Anche se il diavolo lo chiamerà tenebre Anche se sarai criticato Infatti non c'è uomo di Dio nella Bibbia pieno di luce Uomo di Dio che non è stato criticato, maledetto, reglietto, ucciso, perseguitato Cominciando con Abramo, cominciando con Abramo era perseguitato Era criticato da Lot, Giuseppe, criticato, perseguitato dai fratelli E tutti, Giacobbe, perseguitato dalla fratella E allora come ci assicuriamo che siamo pieni di luce? Poi dice anche tutti in peccato sono privi della gloria di Dio Noi ci meritiamo l'inferno Quindi veniamo dalle tenebre, arriviamo a Cristo, diventiamo luce in Cristo Se camminiamo in Cristo, ma se non camminiamo in Cristo Non siamo nella luce, ma anche se abbiamo Cristo Ecco che andiamo verso le tenebre Come Giuda, come Anania Safira Come Pietro ha anche rinnegato Gesù Quante volte abbiamo rinnegato noi Gesù? E allora non è che possiamo addormentarci Perché io sono cristiano, sono nato di nuovo Oh oh, come sono in gamba Attenzione, dobbiamo Come avete ricevuto Cristo Gesù il Signore Ora camminate in Lui Colossese capitolo 2 Ameno Radicate sulla fede E allora come cambiamo le tenebre in luce? E come ci assicuriamo che se abbiamo ricevuto la luce E l'abbiamo ricevuto in Gesù, siamo nati di nuovo Come ci assicuriamo che rimaniamo nella luce E camminiamo nella luce E se siamo nelle tenebre cambiamo in luce Come facciamo? In ginocchio, dare il cuore a Gesù Dare tutto il cuore Parlare con il Signore Gesù sono stanco di me Non ce la faccio più sopportare me Signore voglio te Voglio la tua luce Voglio il tuo amore Voglio la tua libertà Voglio la tua sincerità Voglio la tua onestà Voglio imparare a offrire l'altra guancia Signore Sono in un posto qui che mi odiano tutti Mi maledicono Io gli darò amore Signore mi odiano Io gli darò amore Mi persegui Io confiderò in te Sai tuo padre, tua madre, tuo figlio Tua moglie, tuo marito Puoi vivere con una persona meravigliosa Perfetta no, solo Dio Però meravigliosa Che crede nel Signore Crede nell'amore Però i nostri occhiali sono sporchi Nostro cuore è sporco Noi guardiamo solo gli sbagli Osserviamo una persona Solo per scoprire quando Vedere quando sbaglia Finalmente maledirla Guarda Non sa fare una cosa buona E non sa cucinare Alla moglie Oppure tu Se buona nulla Il marito Trovare il pelo nell'uovo Poi a volte sai Siamo peccatori I peli Se ne sono quando ne vogliamo Va bene Ci sono Le nostre uova Assomigliano Alla Alla peluria Di Di Esaù Che era chiamato Il peloso Fratelli Dipende dal punto di vista Cerchiamo di avere Il punto di Gesù Perché possiamo avere Il punto di Gesù O il punto del diavolo Come guardiamo Uno all'altro Qui c'è una moglie Un marito Un fratello Una sorella Un padre Un figlio Quello che è E noi guardiamo Sempre Aspettiamo Che finalmente Fanno sbaglio Per costruire Una torre di Pisa Sopra Tu hai sbagliato Ieri L'altra semana scorsa Angela Tu hai sbagliato Un anno fa Mi ricordo Sicuramente ho sbagliato Mi ricordo Ho fatto uno sbaglio Due anni fa Ho tutto scritto No ma anche oggi ho fatto Ho tutto scritto Registrato Non scappi Ed è verità Vero che è verità Sì 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 Sicuramente Ma questo qui Scusate Il diavolo L'accusatore dei santi E dobbiamo Gesù guarda Il peccato Aveva dodici peccatori intorno E chissà ne ha visto Di belle e di brutte Però Gesù guardava Non a com'erano Ma come sarebbero stati Grazie a Dio Che lì ci guarda Non come siamo Ma come saremo E allora rivestiamoci Degli occhi di Gesù Possiamo avere Gli occhi di Gesù Grazie Gesù Gesù ci ha dato I suoi occhi Si chiama lo Spirito Santo E allora Signore Prego Prego Signore Gesù Che Tu ci aiuti tutti La nostra piccola chiesetta Di Betlemme Signore Chiesa dello Spirito Una piccola chiesetta Di Betlemme Che assomiglia Più a una stalla Che non un edificio Con le panche organizzate Col bue O con l'asinello Signore Signore Prego per ogni fratello Che ci segue Signore Prego che tu I fratelli Che ci seguono Stamattina Gli dai un bacio Un bacio Nello Spirito Signore Signore che tu Li abbracci Come dice Che bellissimo Grande abbracci A me Gesù Signore abbracci Ogni fratello Ogni sorella Abbracci Li tieni stretti 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 Signore Signore so che tu Lo fai già Basta che ci sintonizziamo Lo sentiamo Ma questa è la mia Preghiera Signore Gesù Dagli Signore a ogni fratello Un braccio Forte Fale sentire che non importa Quanto sono peccatori Signore Quando veniamo a te Tu sempre ci ricevi Grazie Signore Non possiamo essere troppo peccatori Grazie Signore Il cielo è pieno di peccatori E pentiti Aiutaci Signore A capire che siamo peccatori E allora brilleremo Guarderemo con gli occhi Della luce dell'umiltà La luce della verità Che siamo buoni a nulla E quando capiamo questo Questa è la sposa di Cristo Aiutami a capirlo Io sono una zucca dura Signora Aiutami a capirlo Io dici tutti a capirlo Nel nome di Gesù Amen Quindi il Signore ci aiuta A mettere gli occhiali giusti Quelli dell'amore di Gesù Della parola Della Bibbia Della pazienza Dei Galati 5.22 Amore Bontà Pazienza Amen Ci sono due tipi di occhiali Attenzione alla marca Non prendete Una volta così Per il quasi gioco Ho comprato il paio di occhiali Che costava Mi pare un euro Un paio di occhiali Da leggere No? Un euro Sì Erano lenti di ingrandimento Sare la lente di ingrandimento? 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 Mi ho messo Mi ho fatto male gli occhi Per l'amore di Dio Va bene Attenzione alle finte lenti Attenzione alle lenti Del diavolo Ci sono lenti Sai che ci sono A volte specchi Che ti fanno vedere Più magro Più grassa Sì 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 Amore nel fratello Vedi il fratello Che è arrabbiato Però tu gli dai amore Lo vedi magari fa un peccato Ma tu gli dai amore Allo stesso E alla fine Quello dice Non ce la faccio più Non resisto Continuano a ricambiare Il mio male col bene Basta Ho deciso di convertirmi Vado da Gesù Ecco Vittoria Dio benedica fratelli Un abbraccio Un bacio E un bacio Un abbraccio Gloria a Dio Un abbraccio